L'EUX è stato disponibile alla crescita culturale per tutti i ragazzi. Ogni incontro dei novecenti che erano chiamati è sempre stato disponibile. Per cui questa scuola è la volontaria, questa scuola è la disposizione per le nuove generazioni. C'è stata appunto di cui si è apprezzata tanto da... Adesso è più leggerato la motivazione. Prego. Grazie. Allora, consegniamo questa tarda il domenico del dottore Renato Moro per la sua attenzia a vicinanza ai ragazzi e ai ragazzi del gruppo di macchia. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 un grande potere, quello della stampa. L'altra cosa che mi ha insegnato è la passione, perché per fare questo mestiere c'è la passione, anche un po' di portia, perché se non hai questo sacro popolo, poi in questa generazione era così, cioè iniziava a fare questo mestiere, non esistiva nient'altro, iniziava alle 8 di mattina, finiva l'una o ogni tanto giorno, non esisteva, esisteva poco, potrebbe conciliare la famiglia, qualsiasi cosa diventava difficile da conciliare, però si riusciva a fare anche quello, e quell'altra grande notte che Renato aveva era la capacità di guardare oltre, cioè non si fermava a racconti dei fatti, oppure il fondamentale di un giornalista, lui riusciva sempre a studiare, ci parlo sempre di mezzo, perché lui diceva una cosa e mi stava già un metro avanti, 10 metri avanti, quindi questa sua capacità di guardare sempre, di guardare volte, perché il giornale era anche, secondo me, indirizzare un po' le opinioni, iniziava, aiutare i lettori cittadini a capire quello che sta succedendo, banalmente per la Movida, non un pochino tornare a parlare della Movida, a fare tutto un settore dedicato ai locali, ai concerti, la gente pensava, c'era insomma un po' il prossimo pollo, il giornalismo, e il giornalismo anche quello. Grazie.